Abbiamo lanciato, ripartiamo dall'Eur, una petizione online su www.change.org con la quale noi chiediamo il divieto di prostituzione entro i 500 metri da tutti i luoghi dove si svolge la vita della comunità, quindi dalle abitazioni, dai parchi, luoghi di culto, eccetera. Riteniamo questa sia una necessità ormai, purtroppo da anni noi abbiamo chiesto una legge che prevede il reato di prostituzione in luogo pubblico, l'abbiamo chiesto al nostro Parlamento, purtroppo questa legge ancora non vi è, quindi il nostro codice penale non prevede il reato di prostituzione in luogo pubblico, allora vogliamo ricorrere almeno per via amministrativa chiedendo al sindaco attuale di Roma di avviare un procedimento amministrativo affinché venga appunto deliberata questo divieto di prostituzione che è un'assoluta necessità. Mi piace sottolineare che per noi questo è un problema di insicurezza, è un problema di degrado, è un problema di immagine, noi non ne possiamo più, è un problema di igiene, per noi è diventato una questione intollerabile, una questione di vita di morte, la dobbiamo superare in qualche modo. Chiarissimo, quindi da Veneto a Roma gli abitanti non ne possono più, vogliono trovare...